Iniziamo con questa video lezione un nuovo percorso filosofico novecentesco. Iniziamo da oggi un percorso lungo i sentieri della scuola di Francoforte. Prima lezione dedicata alla scuola di Francoforte e ad Orkheimer e poi seguiranno lezioni dedicate ad Adorno, a Marcuse e ad altri autori che hanno dato un contributo fondamentale al rinnovamento del marxismo nel novecento all'interno del percorso iniziato dalla scuola di Francoforte. Prima lezione di oggi dedicata a Max Orkheimer e alla scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte nasce nel 1923. In seguito a una donazione privata, un gruppo di studiosi, di intellettuali di varie discipline fonda appunto a Francoforte questo istituto di scienze sociali, istituto per la ricerca sociale. Il primo direttore dell'istituto è lo storico marxista Karl Grunberg. Fanno parte della scuola economisti, sociologi, filosofi, psicologi. La scuola di Francoforte diventerà anche un punto d'incontro di tre grandi tradizioni filosofiche, scientifiche. La tradizione ghigliana, la tradizione appunto marxista, marxiana e la scuola di Francoforte farà convergere tre giganti del pensiero, Hegel, Marx e Freud. Ma sarà soprattutto Marx il punto di riferimento culturale. Infatti la scuola di Francoforte si proporrà di rinnovare il marxismo, di rileggere, rinnovare, reinterpretare, attualizzare il marxismo alla luce degli avvenimenti storici, economici, culturali appunto degli inizi del ventesimo secolo. Ma dopo il marxista o storico Karl Grunberg emergerà la figura appunto di Max Orkheimer che nel 1931 diventerà appunto il direttore dell'Istituto per la ricerca sociale di Francoforte. Orkheimer è nato nel 1895 da una ricca famiglia di ebrea e ha lavorato presso l'impresa del padre e poi si è laureato nel 1922 a Francoforte con una tesi su Kant e entra a far parte del gruppo di studiosi francofortesi e scriverà appunto con Fromm, con Adorno, con Marcuse, con altri autori per la rivista dell'Istituto Sociale, la rivista di critica sociale degli studi Francoforte. E i numeri poi della rivista verranno raccolti nel 1968 in un'opera intitolata appunto Teoria Critica ed è una grande novità questa rivista, una rivista di critica sociale, una rivista che propone la teoria critica della società, della realtà, come modus operandi in una dimensione tra l'altro dialettica su cui poi tornerò successivamente. Nel 1933 con l'avvento al potere ovviamente del nazionalsocialismo, del nazismo, con l'avvento al potere di Hitler, con l'affermarsi del Terzo Reich, la scuola ovviamente di Francoforte viene chiusa e viene trasferita, si trasferisce prima in Svizzera e poi dal 1934 a New York. La rivista continua la sua pubblicazione a Parigi e successivamente poi anche negli Stati Uniti. Lo stesso Orkheimer si trasferisce negli States, a New York e poi dal 1941 in California. E nel 1947 uscirà una sua opera fondamentale, l'Eclisse della Ragione, nel 1947 in inglese, anno in cui uscirà invece in tedesco il capolavoro della scuola di Francoforte come opera destinata ad un successo incredibile, sulla pietra miliare del pensiero filosofico e sociale del XX secolo. Esce appunto nel 1947 in tedesco la dialettica dell'Uminismo, scritta appunto con Adorno. Adorno e Orkheimer scriveranno appunto la dialettica dell'Uminismo. Alla dialettica dell'Uminismo dedicherò una video-lezione completa, autonoma, poi ci sarà la lezione su Adorno. Dunque nella preview vi annuncio c'è una lezione questa su Orkheimer, una lezione su la dialettica dell'Uminismo e poi una lezione su Adorno dedicata interamente ad Adorno. Orkheimer appunto scriverà queste due opere negli anni 40, poi ritornerà anche in Germania dopo la fine della guerra a lavorare, a scrivere, sarà anche appunto direttore della facoltà appunto di sociologia e di filosofia Francoforte, poi si trasferirà negli ultimi anni della sua vita a Lugano dove morirà appunto nel 1973. Qual è l'obiettivo principale della scuola di Francoforte? L'obiettivo principale, vi dicevo già prima, è quello di riproporre, rileggere il marxismo alla luce degli avvenimenti del XX secolo, dunque un riposizionamento del marxismo, una rilettura moderna del marxismo dentro il cuore del Novecento. Perché? Perché bisogna tenere conto dei grandi mutamenti che sono avvenuti all'interno dello sviluppo capitalistico e dello sviluppo appunto degli stati nel Novecento. In modo particolare, il punto di partenza della scuola di Francoforte è anche un'analisi del nuovo capitalismo. Il nuovo capitalismo è un capitalismo in cui lo Stato gioca un ruolo fondamentale, sia il capitalismo anglosassone, angloamericano, francese, sia il capitalismo di Stato interno alla Germania nazista, alla mentitaglia fascista e anche le forme economiche all'interno dell'Unione Sovietica. E dunque lo Stato è di fatto il grande progetto dell'economia e si parla di capitalismo di Stato. Capitalismo di Stato. Adorno, Orkheimer, partiranno da questa anche analisi, anche poi Marcuse ovviamente, di nuovo protagonismo, di assoluto protagonismo dello Stato all'interno delle dinamiche economiche, all'interno degli sviluppi del capitalismo, all'interno della produzione, distribuzioni, allocazioni delle merci, che poi è il cuore pulsante di qualunque economia, in modo che poi è un'economia produttivista, di stampo capitalista. Dunque, se lo Stato ha assunto un ruolo così forte all'interno dell'economia, non è più possibile parlare di una struttura economica autonoma rispetto alla sovrastruttura statale, che è al centro dell'analisi marxiana. Marx parla di struttura, che è la base economica della società, e di sovrastruttura. La struttura tra le principali è quella dello Stato, tra le principali sovrastrutture è lo Stato, poi via la religione, e poi via chiaramente la filosofia, via l'arte, via la cultura, potremmo dire. Ma lo Stato è la sovrastruttura intesa da Marx come comitato d'affari della classe dominante, la borghesia. Ebbene, questo comitato d'affari della borghesia, cioè della classe dominante, lo Stato, è diventato una sovrastruttura talmente mastodontica e potente, con l'apparato poi delle leggi, il diritto, della burocrazia, dell'apparato militare, repressivo, con legame con le banche, con una sovrastruttura talmente potente da non essere più considerata tale, da non poter più essere considerata tale. Dunque si va verso un'analisi che tiene conto dell'economia e dello Stato, dell'intrecciarsi tra il potere economico e il potere appunto politico e statuale. Dunque la scuola di Francoforte e Orkheimer cominciano a dire che lo Stato interviene, interviene pesantemente nella produzione, nella distribuzione delle merci, interviene con delle legislature a favore della borghesia, ma anche a favore del miglioramento delle condizioni del proletariato interviene all'interno del colonialismo o dell'imperialismo interviene con la guerra, ma l'intervenire ad esempio attraverso politiche a sostegno dei lavoratori che può essere il welfare state di Roosevelt, può essere il welfare state statalista nazista o fascista o può essere appunto l'assistenza, la garanzia di diritti all'interno dell'Unione Sovietica di diritti come la casa, il lavoro, il cibo, dunque l'intervento a favore dei lavoratori per impedirne di fatto l'impoverimento, la fuoriuscita dal mercato del mondo capitalistico, per inquadrarlo ideologicamente all'interno del nazismo e del fascismo, per sostenere un discorso anche di comunismo statalista paternalista con l'Unione Sovietica, fatto sta che questo intervento a favore dei lavoratori per impedirne appunto l'impoverimento, per dare adesso una collocazione che non sia esplosiva, che non sia devastante, porta proprio la classe operaia a non essere più una classe che raggiunge un'autocoscienza rivoluzionaria e dunque perde la classe operaia la stessa dimensione di classe che ha autocoscienza di esserlo, la classe rimane, ma perde la costa di essere classe operaia e comincia aumentando il salario vendendo un lavoro potendo si comprare magari con un prestito una piccola casetta perde appunto la propria coscienza di appartenenza della classe di sfruttati perché ne vede migliorare leggermente le condizioni alcuni la vedono migliorare anche molto e dunque la classe operaia non è più la classe rivoluzionaria non è più la classe che all'interno di dinamica dialettica della storia porta avanti un cambiamento radicale a livello strutturale della società perché anch'essa è inglobata all'interno di piccole grandi logiche di dominio di sopraffazione e di miglioramento egoistico atomistico e privatistico della propria condizione dunque vedendo bene la carica rivoluzionaria della classe operaia si pone più che mai della trasformazione della società chi trasforma la società se la classe operaia ha perso coscienza di essere classe operaia e ha perso soprattutto la spinta rivoluzionaria per la trasformazione radicale della società e dunque qua nascono i problemi ostili alla socialdemocrazia perché ha proposto un riformismo che ha tradito gli obiettivi rivoluzionari di grande cambiamento della società ma ostili anche al modello comunistico sovietico che ha soffocato la libertà i francofortesi rimangono subito intellettuali filosofi economisti sociologi che fanno della ricerca della filosofia dell'economia della ricerca sociale storica l'elemento cardine per provare a trasformare la società ma rimangono appunto poi degli intellettuali che non faranno politica diretta saranno intellettuali che affideranno soprattutto alla critica della società una possibilità di risvegliare un'autocoscienza una coscienza che poi dopo ovviamente autenticamente riduzionare quando diventa autocoscienza perché la coscienza imposta non è mai una coscienza che direttamente riesce a produrre la trasformazione della società cerco di distribuire dunque la crescita di autocoscienza e critica nei confronti della società esistente in modo particolare Orkheim lavora sulla nuova teoria critica e dialettica bisogna ritornare alla sinistra egheliana cioè a quell'intuizione che hanno avuto gli allievi giovani di Hegel che hanno criticato però il tradizionalismo il conservatorismo di Hegel e della destra egheliana bisogna tornare alla sinistra egheliana per capire che il reale e il razionale di fatto non coincidono la realtà in cui noi viviamo non è razionale deve diventare razionale ma la razionalità di cui parlano chiaramente i francofortesi è intesa come libertà giustizia e uguaglianza non è la razionalità tecnica burocratica ma ne parleremo questa prossima puntata facendo la direttica di illuminismo la razionalità di cui parlano i francofortesi è la razionalità della giustizia e della libertà e dunque vi faccio un esempio facile per capire in un mondo in cui c'è tantissimo profitto a persone muoiono di fame non hanno accesso ai farmaci o non c'è possibilità di cure o in un mondo in cui aumenta il profitto ma viene viene meno la possibilità di respirare aria pulita di bere acqua sana è chiaro che non sei in presenza di una razionalità anche se abbiamo lo smartphone anche se abbiamo dei codici a barre del password e poter comprare direttamente col telefonino o se abbiamo anche la miglior connettività e dunque la migliore anche capacità di risolvere burocraticamente attraverso uno smartphone tutta una serie di pratiche quella è la razionalità burocrata col telefonino riesco ad accedere all'IMS riesco ad accedere all'ASL riesco ad iscrivermi all'università riesco a vedere quando inizieranno i corsi di Thai Box o quando appunto ci sarà la riunione dei genitori della prima A perfetto tutta questa è razionalità tecnico-pratica ma non è razionalità di fine cioè è una razionalità di libertà giuaglianza e giustizia parole a cui io faccio sempre riferimento perché infatti non fumo per vivere solo come brutti e porci in competizione o per esaurirci nella tecnica ma per vivere uomini liberi e la libertà è tale quando è per tutti non per pochi questo ovviamente per me e torniamo su quello di Franco Ford la teoria di Orkheim va in direzione di una riscoperta di una teoria critica di una dialettica una dialettica che metta in mostra che cosa la discordanza tra la razionalità e la società la razionalità e la realtà c'è una discordanza e la dialettica diventa uno strumento appunto per comprendere questa discordanza non è più soltanto come Lukács uno strumento di coscienza di classe non è soltanto più un'espressione della coscienza di classe la dialettica diventa uno strumento in questo caso per poter trasformare la società in questa direzione Orkheim si muove e si arriva alla bellissima analisi che fa sull'intellettuale passaggio stupendo l'intellettuale l'intellettuale critico secondo Orkheimer non è semplicemente un ripetitore di tendenze l'intellettuale critico non è soltanto un conformista che racconta spiega riproduce l'esistente ma deve essere un intellettuale critico che mette a nudo che abbia le capacità di mettere a nudo le discordanze le aporie le contraddizioni delle esistenze e dunque serve ovviamente una forza di immaginazione anche perché mettere a nudo le contraddizioni del presente non significa avere già la ricetta per superarla ah ma tu Matteo critichi questo capitalismo che giunge l'ambiente ma che ricettai come sostituisci questo capitalismo dimmelo non è 2 più 2 fa 4 è indivenirla realtà ma se noi ci arrestiamo a ripetere che poiché non c'è l'alternativa ci teniamo questo mondo questo mondo così ingiusto e così contraddittorio ci porterà a morire già ci sta portando una vita tendenzialmente brutta di alienazione dei pochi che dominano sui molti ma sono anche alienati certo meglio essere alienati da dominanti che ha dominati i stessi dominanti perché conducono delle vite fatte di frenesia e di ovviamente competizione che ti porta a sviluppare tra l'altro sentimenti emozioni e intellettualità coscienziali fondate sull'aggressività dunque tendenzialmente facciamo una vita di merda ok questo perché perché la contruttura sociale dentro come siamo inseriti che è un'interazione tra economia mercato stato cultura è una realtà complessiva di violenza di prevaricazione di sfruttamento dunque la teoria critica di cui ci parla Orkheim è la teoria critica che deve portare avanti un intellettuale che vuole soprattutto dire un no al presente un rifiuto del presente questo tema ritornerà molto più esplicito molto più forte con Marcuse dunque nella dialettica di Orkheimer è centrale e fondamentale il ruolo della negazione dell'antitesi hegeliana non è la sintesi la sintesi non sappiamo quale sarà serve dunque anche uno slag utopico cioè di immaginazione di quale potrà essere un domani il mondo che vogliamo provare a costruire ma si parte dalla negazione del presente si parte dal negare la bruttura la bruttezza l'ingiustizia del presente per costruire poi chiaramente un futuro non più di alienazione e di sfruttamento ma di partire da una materia critica dell'ingiustizia della realtà dell'irrazionalità della realtà dunque secondo Orkheimer poiché non è possibile conoscere la totalità che è sempre incompiuta l'uomo deve intellettuale in questo caso deve sempre più cercare di comprendere le parti che compongono la realtà e questo è indispensabile fare il positivismo e l'illuminismo prima ma soprattutto il positivismo hanno avuto l'uso di comprendere la totalità di poterla scientificizzare scientificare di poterla dunque analizzare in maniera scientifica in maniera completa esaustiva e poterla riorganizzare questo è un mito che ancora oggi torna soprattutto nel positivismo o nel neopositivismo non quello storico del novecento ma la forma di oggi neoneopositivismo tecnologico ci affidiamo alla tecnica e alla tecnologia per risolvere l'ingiusti del mondo no la tecnica va guidata se io guido una macchina contro un muro la macchina va contro il muro se guido una macchina invece verso un prato di rose la macchina mi porterà verso il prato di rose che è nettamente meglio che andrà a schiantarsi contro il muro la macchina è lì però la macchina è lì bisogna capire dove condurre la macchina e dove portare la macchina gli scienziati vengono criticati duramente da Orkheimer soprattutto non quanto scienziati non parliamo di antiscientismo no ma vengono criticati perché sono di fatto inseriti in un apparato sociale economico e di potere e hanno smesso di svolgere una funzione critica gli scienziati non sono più liberi nel produrre la loro ricerca ma continuano nel solco della società e della realtà così com'è dunque anche lo scienziato diventa un riproduttore diventa un riproduttore gli scienziati continuano a produrre a costruire e inventare nel solco della società dominante della realtà dominante delle contraddizioni presenti la divisione sociale passaggio stupendo la divisione sociale del lavoro fa sì che uno sia in un magazzino a fare un lavoro l'altro in un laboratorio l'altro in una segreteria e alla fine magari abbiamo prodotto un bel missile che può distruggere il pianeta ma nessuno ha composto il missile in maniera completa perché lui ha lavorato queste formule matematiche lui su queste formule chimiche lui su queste forme lui su aspetti architettorici di design l'altro ha semplicemente messo a posto dei conti delle raccondate l'altro era il guardiano della fabbrica ma alla fine hai prodotto il missile e anche gli stessi scienziati che dovevano una consapevolezza superiore del guardiano o del singolo operaio il quale però deve essere anche portato a una coscienza di quello che sta facendo ok lo scienziato inserito in questa dinamica non ha quasi più la consapevolezza di quello che sta facendo e qui ci aggiungete Einstein ci aggiungete non è che non sapesse lo stesse facendo ma la produzione della bomba atomica è anche figlia di un'atomizzazione scusatevi il gioco di parole del lavoro di un'ultra specializzazione alla fine ci troviamo di fronte a la morte o all'ingiustizia allo sfruttamento ma ognuno ha fatto un piccolo passo per lo sfruttamento ognuno ha fatto una piccola porzione di dolore sfruttamento e di ingiustizia e così ognuno non ha la coscienza sporca o meglio penso di non avere la coscienza sporca o non ha la consapevolezza la coscienziale di quello che ha fatto dunque Orkheim si spinge profondamente verso la critica una società esistente lo faranno benissimo poi nascondi nell'opera la critica dell'uminismo che vedremo la prossima lezione nella prossima puntata Orkheim si porta però a dire che serve un ritorno alla ragione intesa alla Kant in quale emerge la sua tesi di laurea su Kant cioè bisogna portare la ragione ad essere giudice in un tribunale serve un tribunale della ragione che sottoponga la realtà a un giudizio e dunque non una ragione che certifichi non una ragione che giustifichi non una ragione appunto che accetti la realtà ma una ragione che critichi la realtà una ragione che si faccia strumento critico della realtà e la ragione si fa strumento critico la realtà ogni qual volta riesce a capire le contraddizioni della realtà le ingiustizie della realtà i percorsi assurdi della realtà e ogni volta che riesce ad immaginare un cambiamento ogni volta che riesce a individuare un percorso razionale alternativo a quell'irrazionalità del presente dunque la ragione deve istituire un tribunale della realtà che giudichi la realtà per poi per poi immaginare un cambiamento della realtà stessa la ragione è tale quando immagina mondi possibili quando immagina realtà possibili quando immagina alternative esistenziali alternative al mondo delle cose in cui noi viviamo questa è la lezione di Orkheimer c'è un ultimo Orkheimer pessimista che apre una dimensione poi di fede è molto meno originale molto meno innovativo rispetto al primo Orkheimer che è quello che oggi vi ho presentato anche se poi manca un elemento centrale ancora a questa prima lezione che è poi la dialettica dell'illuminismo però ricordatevi bene la teoria critica dialettica ricordatevi bene la separazione ormai tra teorie e prassi le teorie sono separate dalla prassi sempre più perché uno ha teoricamente il concepito delle cose praticamente ne fa delle altre e dunque lo stesso scienziato non ha più la percezione di quello che sta facendo e si trasforma in un giustificatore della realtà e in modo particolare sta portando questo scienziato al dominio della tecnologia sulla natura e sugli uomini ok invece la tecnologia deve essere al servizio della natura degli uomini la tecnologia non deve dominare la natura degli uomini questo è il grande rischio della tecnologia temi attualissimi oggi e poi ha capito Orkheim che la filosofia deve farsi carico di elaborare una teoria critica della società esistente senza capacità critiche senza una capacità di criticare dunque di negazione delle contraddizioni dell'esistente cioè di mettere in luce per poi provare a superarle siamo destinati ovviamente a fare la fine la fine dei topi dei topi o far la fine chiaramente degli esseri infelici e alienati questa prima lezione scuola di Francoforte come sempre iscrivetevi al canale ma soprattutto scrivete sotto cosa ne pensate se sono stato chiaro e quali altri autori vorreste che io trattassi in futuro l'elenco è già lunghissimo c'è Ann Arn c'è Carl Schmitt Stira sono già tanti io come vedete però c'è Rorkheimer sto cercando di realizzare questo progetto quasi di avere una storia della filosofia completa online buon logos buona filosofia a tutti di realizzare la filosofia di realizzare